Tante idee per il mercato del Carmine, ma ancora nessuna certezza su tempi e costi. Fra le proposte, quella low cost realizzata dagli artigiani di CNA, che si dicono disposti a metterci del proprio per far rivivere uno dei luoghi simbolo della nostra città. Un progetto in loro che punta a portare nello storico edificio tutte le anime più significative ed originali dell'artigianato artistico, riscoprendo così tutti quegli antichi mestieri dimenticati che tanto piacciono ai turisti e che producono brand a livello internazionale. Al mercato del Carmine troverebbero così posto intagliatori, doratori, ceramisti impagliatori, fabbri, vetrai, restauratori, corniciai, tessitori, falegnami ed altri ancora. Fra questi non guasterebbe un po' di spazio per un museo, ma anche per corsi, incontri e per una piccola scuola dell'artigianato. Annullata invece la conferenza che si sarebbe dovuta tenere presso la Cappella Guinigi nel complesso di San Francesco, dedicata all'illustrazione del progetto per la riqualificazione del mercato centrale di Firenze, un complesso di lizio con caratteristiche molto simili a quelle del mercato del Carmine, che avrebbe dato così spazio ad ampi parallelismi e a doppie soluzioni. Intanto l'assessore con delega allo sviluppo economico e alle attività produttive Giovanni Lemucchi fa sapere di essere in attesa della relazione stesa da una commissione tecnica dopo alcune verifiche al tetto della struttura. Il maltempo sembra infatti aver contribuito a rovinarlo, tanto che attualmente sono circa sei i buchi sulla copertura da cui filtra acqua piovana. E così l'aggiunta del necessario rifacimento del tetto sembra andare a sconvolgere notevolmente i piani, a partire dalla cifra che era stata prevista e che inizialmente avrebbe dovuto riguardare soltanto il chiostro. Interventi di una certa consistenza si rivelano adesso necessari, ma non sarà possibile fare una stima precisa fino alla consegna della relazione. Sarà allora che il Comune deciderà quale strada percorrere. Lemucchi, che non fa mistero della difficile situazione in cui versano le casse dell'amministrazione, si dice consapevole del fatto che gran parte delle spese risulteranno probabilmente a carico del Comune, ma non esclude la possibilità di individuare partnership pubbliche o private che possano supportarlo in questo progetto.